Caro Franco, sono felice di essere qui e grazie dell'invito a parlare di mio padre. Mi hai chiesto di parlare di mio padre nell'intimità, nella famiglia, anche se è difficile per me distinguere l'uomo politico, e lo dico nel senso lato del termine. Papà è sempre in qualche modo stato un uomo politico. L'episodio più caratterizzante della sua vita privata, ma che è l'inizio della sua vita pubblica, accadde il 10 giugno del 1940, quando Mussolini faceva dichiarazione di guerra e parlò ora di decisioni irrevocabili. Le decisioni irrevocabili ne generano sempre altre. Lui era con il padre, mio nonno Antonio, che era antifascista dichiarato, in una festa tutti diedero espressioni di gioia, mio nonno aspettò che la folla si calmasse per dire che quella era la fine di Mussolini, che avremmo perso la guerra e che l'avremmo continuata a fianco degli anglo-francesi. Devo dire previsione visionaria per allora. La folla aggredì mio nonno anche fisicamente, mio padre si frappose fra questa folla e il padre con il proprio corpo. mi disse, aveva circa otto anni, mi disse che quel giorno lui aveva deciso da grande di combattere per la libertà, in difesa del padre. In realtà questa difesa del padre, questo essere figli, è il tema non solo di mio padre, ma secondo me di ogni buon cristiano. Ma c'era questo tema della coniugare la libertà con l'essere figli anche nella Roma Antica. Il figlio veniva chiamato in Roma Antica, il liber in opposizione al servo. Tutto questo tema... Grazie. Grazie. Grazie.